Ciao raga! Questo qui sarà un video un pochino più veloce perché oggi vi farò vedere dove si trovano tutte le uova del nuovo aggiornamento di Pasqua. Intanto aspettiamo che fa ripartire l'aggiornamento da capo perché alcune dovrei averle già prese e aspettiamo un attimo, spero che lo scorso video vi sia piaciuto, quello dove vi ho parlato dell'aggiornamento. Allora, aspettiamo un pochino, intanto proviamo a fare dei trade. Con lei, tipo, anche se è un castoro che non mi piace. Ma, 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 va bene. Allora, aspettate. Ok ragazzi, come vedete, come vedete è giorno. E adesso proviamo a... Facciamo la caccia e vi faccio vedere dove si trovano le cose. Allora, stavo facendo un pochetto di trade, intanto l'aspettavo perché ci è voluto veramente tanto. E adesso iniziamo la caccia. Allora, io azzererei proprio tutto. Ok, azzerato e stiamo andando a casa. Oh mio Dio, mi sono scordata di chiudere la chiave. Chi fa quante persone ci sono entrate. No, vabbè. No, no, no. Allora, però, adesso, beh, iniziamo. Usciamo. Prendiamo la nostra overcar. Bellissima, deliziosa overcar. Partiamo. E... Equipaggia. Io sinceramente avevo più pet ride. Baraply. No, ride, in verità. Perché, però, l'ho scambiato per, tipo, per gli spasfuri. Ho dato tre pet. Ride, fly. Ok. Come vedete, prendete. Prendete. Vi conviene prendere un pet ride o fly. Io cerco di andare in ordine, anche se i posti non me li ricordo bene. Io prenderò la Goldie, coccinella mia. Allora, il primo ovetto lo trovate subito qui. Facile. Però dovete andare molto veloci, perché, se no, il tempo finisce. Poi, il secondo ovetto lo trovate qui al parco. Anzi, al parco ne trovate anche un altro qui. Ecco, questo. Vedete? È il parco. E... E... Ok. Questo, ecco, là e anche un altro là. Aiuto mio. E poi, qui, al parco, dovrebbero essere finiti. Ok. Al parco sono finiti. Poi, tanto, ce li facciamo un ultimo giro. Sempre per sicurezza. Poi, qua nel negozio di passeggeri ce n'è uno qui. Ok. Faccio sempre un giro. All'hotspring ce ne sono tre. Sì, tre dovrebbero essere uno qui. Appena entri. Poi uno dentro l'acqua. E uno, come vedete, sta lì. Ecco qua. E questi sono quelli all'hotspring. Ce ne mancano soltanto 22. Vado veloce perché perdiamo tempo. E ce n'è uno anche qua sulla rampa. Partiamo. All'hotspring ce ne sono altri anche. Parlo veloce. Cioè, no, sto parlando veloce, però vorrei fare un pochetto veloce. Vedete uno anche qui, dietro l'hotspring. Perché dobbiamo andare, se no finiscono subito, se non ci sono più. Poi uno sta qua. Vedete? Basta che attraversate questo e lo trovate. Con anche a piedi. E ce n'è uno anche qui. In questa zona dove c'è questa struttura. Qui. E dove qua si prende la licenza. E qui si comprano le api, le coccinelle. Poi, qui, dobbiamo stare attenti che ce n'è uno in alto. Vediamo veloce. Poi ce n'è uno qui. Su questa rampa. Vedete? Sulla rampa. Poi possiamo trovarne un altro qua, al campeggio. Che sta sempre qua. Ce ne mancano 15. Allora. Noi ne troviamo un altro anche. Aspettate. Allora. Ce ne dovrebbe stare uno. Eccolo là. Sì. No, qui. Lì. Ce n'è uno anche qui. E uno. Aspetta. Questo è falso. Ah, sì. No. E uno qui anche. Al negozio di giocattoli. In cima. Io le sto cercando con voi, eh. Quindi. Non ho fatto nessuna anteprima. Sì. Ve lo ammetto. Lo ammetto. Ok. Poi. Qui ce ne sono un po'. Aiudimi. Non mi incastro. Ce n'è uno qui sopra. Poi se vede. Se ne va. Cercate. Cioè. Molto. Velocemente qui. Là sopra. Vedete? C'era uno là. Proprio. Sopra il. Dove si comprano. I cieli. Dove si prende il lama. E le cose. Per le uova. E uno sotto il ponte. A quello più grande. Lo spazio grande. Poi. Ce ne sono altri. Cioè. Ce n'è un altro. Anche. Aspettate. Qui in mezzo al centro. Vedete? Aspetta. Aspetta pure. Mi sa uno. Qui no? Aspetta qua. Già l'avevamo presa. Qui non c'è niente. Ce ne. Dobbiamo muoverci. È già sera. Ce n'è uno qua dietro. E uno. Qua sul tetto. Uno qui sotto. Vede? Alla nave. Uno. Ce n'è uno sotto la nave. E. Oh mio Dio. Non li trovo più. Raga. Dove stanno gli altri? Cioè. Sinceramente. Io volevo farlo. Ecco. Un altro. Allo. Sopra. Pet Shop. Per aiutarvi a voi. Però non pensavo che erano così complicati da trovare. Cioè. Veramente. Non li riesco a trovare. Dove sta? Non mi ne mancano un po'. Non capisco. Ah. Forse uno sul tetto là. Aspettate. Vanno controllati sempre bene i tetto. E così infatti. Ce n'è uno qui. Tanto adesso ricomincia la caccia. E dobbiamo ricominciare da capo. Ok. Ce ne mancano solamente quattro. Allora. Può darti. Che c'è. Cioè. Nel tre posti. Non credo. Almeno eh. Proviamo in trasp. Cioè. No. Qui dentro. Non ce ne sono. No. Eh. Usciamo. Abbiamo perso solo tempo. Non so dove stanno. Mio Dio. Quattro. Me ne mancano quattro. E penso. Adesso lo riproveremo. Tanto adesso di sicuro arriva. E. E vediamo dove possono stare gli altri. Forse possiamo vedere il campeggio. Sul tetti. Che non abbiamo visto. Questo qua. Quattro. E non c'è niente. Come il solito. Ovviamente. Come il solito. Ovviamente non c'è niente. Qui. Nemmeno. O dove stanno questi. Caspita di uova. Di uova. Ok. Ricominciata. Ricominciamo da capo. Raga. Cerchiamo. Bene. Dappertutto. Andando. Più veloce. Sta cogliere un pochino lenta. Mi serve un pet più veloce. I prodi. Cioè mi serve un pet molto. Veramente. Mi serve un pet più veloce. Mo lo cerco. Aspetta. Ok. Ho preso un pet più veloce. Allora. Dobbiamo capire. Dove stanno. Tutte. Le altre. Che non abbiamo. Che non stiamo riusciti a trovare. Però quattro. Penso che siano poche. Diciamo che siamo andati bene. Abbastanza bene. Allora. Forse qua dentro. Qualcosa. Però ne è un rubido. C'è. Non c'è. Un cavolo. Non lo so. Forse. Stanno. C'è. Nel centro. Dentro casa. Ma. Al centro. Mentre. Verso le strade di casa. No. No. Vediamo. Aspetta. Mi aiuto. Andiamo. Puoi darti. Che stanno verso ste vie. Vediamo. No. Non c'è nulla. Ma di nulla. Non c'è niente. Niente. Di niente. Allora. Dobbiamo vedere. Ragionare. Trovarle. Molto veloce. Mentre. Forse. Forse. So dove potrebbe nascondersi. Una. Penso. Credo. Ecco. Sì. Ok. Una trovate. Quindi. Una sta. Qua. Vediamo. Qui. Dietro. Tro. Giù. Qui. Allora. Perché non mi funziona più il pet? Ma io non posso passare. Non mi fa passare. Cioè. Non mi fa passare. Come se ci fosse un muro. Ma di solito mi fa passare. Noi dobbiamo perdere pure il tempo. Queste cose. Cioè. Guardate. C'è un muro. E. Vabbè. Un'altra. Eccola. Fly. Forse. Sono qua. Mi fa passare. Sono molto. In difficoltà. Devo ammetterlo. Vabbè. Intanto sappiamo che ce n'è una qui. E. Intorno. Non ne ho viste. Altre. Quelle tre vuole rimangono in mistero. Sono al mistero. Di. Ed ottimi. Cioè. Non so. Non so proprio dove sono. Forse qua. O se stanno andando qua. No. Niente. Vabbè raga. Io non le riesco. A trovare quelle mancanti. Un giorno. Ci possiamo provare a vedere. Cioè. 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 Da like. Scordatemi nei commenti. Se il video vi appreciano. E se volete che vi saluto. In un video. Beh. Niente da dire. Ciao raga. Ciao. Bye. Bé. 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 Grazie.